Musica Santa Arsenio Carmine Graziano lascia la maggioranza e si dichiara indipendente i numeri risicati per l'amministrazione PICA Scuola, liceo Pisacane, Ferzola, la confusione danneggia le famiglie, indirizzo biomedico accreditato Sanità, salernitano, influenza, si va verso il picco stagionale Atena Lucana Scalo, domenica 12 gennaio al Gran Teatro Palladian Flex, Peppe Barra in concerto Teggiano, l'uomo e il riscaldamento globale, un riuscito momento di confronto Buongiorno, ben trovati con l'appuntamento con l'informazione di Uno News in apertura Andiamo a Santa Arsenio, parliamo di politica perché l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Donato PICA in difficoltà nella giornata di ieri, infatti il consigliere Carmine Graziano ha protocollato la lettera in cui si dichiara indipendente L'amministrazione comunale PICA continua a perdere pezzi, è infatti stata protocollata al comune di Sant'Arsenio la comunicazione a firma del consigliere di maggioranza Carmine Graziano con cui si dichiara indipendente dall'attuale gruppo di maggioranza La lettera è stata protocollata nella giornata di ieri e secondo quanto si legge sul documento anche con effetto immediato e senza lasciare spazio a confronti Secondo quanto emerge da Sant'Arsenio, la decisione del consigliere Graziano è arrivata a seguito di attenta valutazione dopo aver constatato, pare, uno scarso interesse al coinvolgimento dell'intero gruppo di maggioranza nell'assunzione delle decisioni Continuano quindi le difficoltà per l'amministrazione guidata da Donato PICA che dopo aver dovuto fare i conti lo scorso giugno con le dimissioni da assessore la contestuale uscita dalla maggioranza di Andrea Avricella ora si trova con numeri decisamente risicati vista la lettera del consigliere Carmine Graziano che confermando il suo ruolo di consigliere comunale si dichiara indipendente come Avricella Si tratta di una decisione che scuote fortemente il gruppo guidato da PICA ora chiamato a dover stringere i ranchi in una situazione in cui i numeri non possono essere definiti solidi per un'amministrazione La maggioranza può infatti contare su sei consiglieri rispetto ai cinque composti dal gruppo di minoranza e i due indipendenti Vricella e Graziano Va inoltre evidenziato come già ben prima della lettera del consigliere Graziano l'amministrazione PICA si era trovata in difficoltà nell'approvazione dell'ordine del giorno in un consiglio comunale con la decisione assunta dal primo cittadino di sciogliere la seduta dopo l'approvazione di un unico argomento avvenuta solo grazie all'astenzione del consigliere indipendente Vricella Quest'ultimo intanto continua a confermare la sua lontananza dal gruppo di maggioranza suon di manifesti e di denunce E' infatti apparso nelle ultime ore un nuovo attacco all'amministrazione PICA da parte di Andrea Vricella e sempre riferito al progetto per la realizzazione della nuova scuola Giliberti che secondo Vricella non risponde alla normativa antisismica attualmente in vigore La scuola andiamo a Padula sono aperte le iscrizioni per i nuovi istituti scolastici quindi anche il liceo Carlo Pisacane presenta la sua offerta formativa un'offerta che prevede anche la possibilità di scegliere l'indirizzo biomedico indirizzo riconosciuto dalla regione Campania ma che è al centro di alcune polemiche del presentare l'offerta formativa la dirigente scolastica Liliana Ferzole la professoressa Maria Carla Gallo a seguito alcune notizie diffuse decidono di fare chiarezza soprattutto nell'interesse delle famiglie mantenendosi distanti dalla polemica da cui annunciano di volersi dissociare e manifestando invece solo l'interesse e la volontà di aiutare le famiglie e ragazzi a potersi orientare nella totale serenità in vista dell'importante scelta ascoltiamole ci tengo molto a precisare che la nostra politica in vista della crescita del territorio è un tipo di politica che si basa su delle scelte che riconoscono a ciascun polo l'istruzione superiore presente nel Valle Oridiano la propria vocazione io credo che in questo periodo possa esserci la tentazione di imporre la posizione dell'istituto che rappresenta non ha senso fare questo tipo di discorso perché ripeto l'eccellenza di un istituto ha senso se si inserisce in un contesto di proposta che sia coerente per i bisogni del territorio allora perché il liceo scientifico di Patula negli ultimi anni ha avuto diciamo un riscontro così positivo a livello di frequenze e a livello di famiglie perché non ha fatto una politica di ripetizione di quello che già c'era ha cercato grazie veramente all'impegno costante di uno staff meraviglioso di cui la professoressa Gallo è qui testimone ha cercato quali potessero essere gli indirizzi più utili per il nostro territorio ma i più utili perché? perché erano quelli di cui il territorio è carente come liceo scientifico di Patula offriamo anche l'indirizzo biomedico su questo indirizzo biomedico si è voluta fare confusione e di questo mi dispiace molto perché qualche genitore potrebbe essere stato disorientato noi nell'ambito della nostra autonomia abbiamo offerto delle ore in più specifiche legate al biomedico ai ragazzi che sono iscritti appunto a questo indirizzo noi abbiamo creato e stiamo creando le premesse per ottenere la cosiddetta curvatura biomedica che potrà avvenire con riconoscimento dal Ministero soltanto però a partire dal terzo anno in poi ci siamo mossi perché abbiamo avuto pure la vallo sia da parte della Regione Campania ma anche da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale che altro non è se non il MIUR in cui non più tardi dell'anno scorso ci ha riconosciuto l'organico per l'indirizzo biomedico chi ha voluto giocare e vuole giocare sulle parole ha sbagliato perché non è così che noi rendiamo un servizio al nostro territorio noi non facciamo ben andato credito perché non ne abbiamo bisogno abbiamo già svolto un primo Open Day il 21 dicembre e nonostante che altivo tempo siamo stati invasi da un esercito di alunni, genitori tutti entusiasti della nostra scuola della nostra offerta formativa il prossimo Open Day si svolgerà sabato 18 gennaio e lì ci sarà anche la possibilità di fare già le iscrizioni e dopo domani, venerdì 10 ci sarà la festa dei laboratori tradizionale appuntamento del liceo scientifico questo è il secondo giorno di apertura delle iscrizioni e già abbiamo avuto un buon riscontro e quindi vi invitiamo il 18 gennaio all'ultimo Open Day della scuola Ci spostiamo ora al liceo Gatto di Agropoli dove si torna a dover fare i conti con le aule fredde un motivo per cui spinge gli studenti a scendere in piazza vediamo Anche quest'anno gli studenti del liceo statale Alfonso Gatto sono pronti a scioperare nel tentativo di risolvere una problematica che da anni si presenta al sopraggiungere del periodo invernale al ritorno delle vacanze natalizie puntualmente la situazione diviene per gli studenti insostenibile la temperatura all'interno delle strutture scolastiche dovrebbe essere compresa tra i 18 e i 22 gradi come previsto dal decreto legislativo numero 81-2008 ma negli anni precedenti nel liceo di Agropoli si sono registrate temperature inferiori addirittura agli 8 gradi così raccontano i rappresentanti di istituto pertanto gli alunni si vedono costretti a frequentare le lezioni tentando di ripararsi dal freddo con cappotti, sciarpe e addirittura coperte la causa di tutto ciò sembra essere in parte una gestione non efficace ed efficiente dell'impianto di riscaldamento presente nella sede del liceo scientifico in via Dante Alighieri si tratta di un impianto a battiscopa dello stesso tipo presente negli ospedali di recente costruzione che però, a differenza di come accade in questi in cui viene acceso 24 ore su 24 nel liceo vengono concesse solo 6 ore giornaliere non sufficienti ad assicurare il livello di temperatura necessario agli studenti non resta quindi di che scioperare al fine di attirare l'attenzione delle autorità competenti è un diritto degli studenti avere una scuola calda ed accogliente un ambiente freddo provoca inevitabilmente un malessere fisico che impedisce loro di svolgere serenamente e con attenzione le lezioni afferma il dirigente scolastico Anna Vassallo stiamo cercando di trovare una soluzione immediata con la provincia a tutela del diritto allo studio dei nostri studenti ma gli studenti del liceo si dichiarano stanchi di dover ogni anno affrontare le stesse problematiche e sono pronti a scendere in piazza per manifestare il loro dissenso ed ottenere la giusta attenzione sono dalla parte degli studenti appoggerò appieno le loro manifestazioni e darò voce alle loro richieste perché non è accettabile nel 2020 non avere una scuola confortevole in cui poter studiare e apprendere senza doversi preoccupare di tali problematiche risponde il dirigente scolastico La salute la prossima settimana è previsto l'arrivo del picco dell'influenza stagionale nella provincia salernitana attenzione alla contaminazione nel caso ci si dovesse ammalare riposo e terapia antipiretica sono le raccomandazioni che continuano a ripetere i medici di base è atteso per la prossima settimana il picco dell'influenza nel salernitano con l'apertura di scuole e luoghi di lavoro dopo la pausa natalizia aumenteranno le probabilità di contagio dopo il lieve calo registrato durante le festività l'influenza va quindi verso il picco stagionale quest'anno è una forma particolarmente subdola dicono gli esperti dai 3 ai 7 giorni di incubazione in cui si è portatori il virus si manifesta con diversi sintomi tra cui febbre altissima astenia, inappetenza e dolori osseoarticolari la trasmissione interumana si può verificare per via aerea attraverso le gocce di saliva di chi tossisce o starnutisce ma anche per via indiretta attraverso il contatto con mani contaminate dalle secrezioni respiratorie quello che è importante quindi è stare attenti ora alla contaminazione ci sono alcune buone regole da seguire per limitarla ai reazioni degli ambienti attenzione ai contatti con anziani e persone che hanno problemi di immunodeficienza lavarsi spesso le mani nel caso ci si dovesse ammalare usare solo antipiretici raccomandano i medici di base non preoccuparsi della febbre alta tre o quattro giorni dovrebbero bastare nel caso in cui ci fosse una persistenza dei sintomi consultare il proprio medico curante evitare l'uso di antibiotici sottolineano perché diventa sempre più frequente l'abuso e l'autoprescrizione di questi farmaci da parte dei pazienti andiamo ora a Salerno addio alla centrale del latte dal primo gennaio 2020 la storica azienda salernitana entra a far parte della New Latte SPA uno dei principali gruppi italiani del settore agroalimentare ma avrà piena autonomia produttiva arriva direttamente dalla centrale del latte la rassicurazione la conferma allo stesso tempo sulla fusione completata con la New Latte Food SPA dal primo gennaio 2020 infatti l'azienda salernitana ha completato l'iter che la fonde con il gruppo che dallo scorso ottobre è stato quotato in borsa come è avvenuto sino ad oggi si legge nel comunicato stampa la nuova società lascerà piena autonomia alla centrale del latte in termini di produzione politiche commerciali di approvvigionamento delle materie prime e politiche occupazionali insomma non cambia niente sul piano del prodotto mentre da un punto di vista organizzativo l'ingresso totale all'interno di un gruppo consentirà alla centrale del latte di crescere la principale novità riguarda il cambio alla direzione dove subentra Simone Aiuti come direttore generale con l'effetto di semplificare i processi societari si legge sempre nel comunicato senza snaturare la forte identità agli elementi distintivi che da sempre caratterizzano l'azienda salernitana sul territorio che ora potrà competere al fianco di brand storici del settore lattiero caseario il messaggio dunque è chiaro da un punto di vista produttivo non cambia nulla i prodotti restano gli stessi ma è chiaro anche l'obiettivo della centrale del latte di tranquillizzare i consumatori salernitani ribadendo che con il completamento dell'iter la centrale del latte andrà a connaturarsi come baricentro a sud dell'attività della New Lat Food costituendo il polo produttivo e commerciale del gruppo che ha altre due sedi a Lodi e a Reggio Emilia e torniamo ora a Sala Consilina dove ci si prepara per il consueto e annuale appuntamento con il pranzo dell'amicizia organizzato dalle associazioni locali nella giornata del battesimo del Signore vuole regalare momenti di felicità a chi è meno fortunato vediamo partito per gioco su iniziativa della parrocchia di Sant'Anna e Sant'Antonio e dei gruppi Fratres e Misericordia e Vallo di Diano domenica prossima a Sala Consilina per il quarto anno consecutivo torna il pranzo dell'amicizia domenica 12 gennaio l'oratorio Don Bosco della chiesa di Sant'Anna tornerà ad aprire le sue porte per regalare una giornata di serenità e amicizia che è meno fortunato un momento di festa che in brevissimo tempo è diventato anche appuntamento di grande interesse e particolarmente è atteso raccogliendo il supporto del territorio ed in particolare di altre realtà associative che hanno deciso di collaborare con la parrocchia di Sant'Anna e Sant'Antonio e gruppi Fratres e Misericordia anche quest'anno il Lions Club Sala Consilina Vallo di Diano l'Associazione Radici e Ali per il Venezuela sono a fianco degli ideatori per l'organizzazione e la predisposizione di un ricco e variegato pranzo in cui ingredienti di base saranno l'allegria e la serenità Al termine della Santa Messa Domenicale Don Luciano Laperuta sarà insieme agli organizzatori presso l'oratorio ubicato sotto la Chiesa di Sant'Anna per dare il via alla giornata di festa dall'alto valore solidale e che ormai è diventato un appuntamento atteso e di tradizione da svolgere nella giornata di celebrazioni del Battesimo del Signore che quest'anno ricorre proprio domenica 12 gennaio Per l'evento gli organizzatori e volontari si sono adoperati per preparare un ricco pranzo a cui potranno aderire con un qualsiasi contributo anche le attività commerciali che vorranno donare per l'occasione prodotti da offrire durante il pranzo dell'amicizia 2020 gli organizzatori dal canto loro saranno pronti ad aggiungere un posto a tavola per trascorrere la giornata di divertimento dopo il pranzo i volontari hanno previsto un prosieguo della giornata con un ricco buffet di dolci da degustare in allegria tra musica e canti e ora ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità torniamo tra pochissimo restate con noi bentornati alla seconda parte del nostro Tg andiamo a Teggiano dove dei giorni scorsi presso il complesso monumentale della Santissima Pietà si è tenuto un incontro sul tema l'uomo e il riscaldamento globale per approfondire un tema di grande attualità rivolto ai giovani e organizzato da Giuseppe Manzolillo e Rocco Cimino due ragazzi che hanno voluto creare un momento di informazione e confronto con il patrocino dell'Unione Studenti del Vallo di Diano del Comune di Teggiano e di Friday for Future Salerno al centro del convegno il climate change illustrato sotto vari aspetti qual è il pericolo quali le misure da adottare quali gli effetti sulla nostra vita e su quella dell'intero pianeta soddisfatti per l'esito dell'appuntamento gli organizzatori che lo hanno pensato innanzitutto per un necessario momento di sensibilizzazione ma ascoltiamo Giuseppe Manzolillo di questo convegno perché il nostro obiettivo era quello di insomma mettere in discussione e di creare un confronto un dialogo su un tema così importante e attuale come il riscaldamento globale di farlo in un territorio come il Vallo di Diano e soprattutto di iniziare a mettere a disposizione dei ragazzi questi incontri insomma anche per metterli in condizione di potersi relazionare con il pubblico infatti l'incontro è stato organizzato con lo scopo di far intervenire ragazzi che hanno portato le loro esperienze e le loro competenze nel convegno attraverso le parole attraverso il confronto e attraverso questi momenti di sensibilizzazione e nell'animo del cittadino emerge quello stimolo in più per capire appunto come funzionano determinate cose e appunto anche per rifletterci e per cambiare poi il nostro mondo diciamo abituale un intervento molto interessante è stato quello anche del professor Roberto De Luca che ci ha insomma mostrato tramite una sorta di seminario alcune nozioni importantissime della fisica e alcuni esperimenti che lui stesso insomma ha portato avanti sicuramente l'intervento di Gian Mario Sabini è stato anche molto importante perché ha analizzato i mezzi di produzione e le relazioni tra il capitalismo e quelli che sono i cambiamenti climatici ricordo anche l'intervento di Giuseppe Luisi un ragazzo che fa parte della delegazione del Free Dive for Future che ha portato l'esperienza sua e di tanti ragazzi che sono insomma seguaci di Greta Thunberg l'intervento del professor Francesco Delia un intervento molto importante per il nostro territorio perché sendo che si è soffermato sull'agricoltura ha sottolineato alcuni aspetti di come insomma il cambiamento climatico ingide sull'agricoltura e quindi potrebbe anche ingidere su un territorio come il nostro che ha vocazione insomma agricola inoltre ricordo anche il lavoro dei ragazzi dell'UDS guidati coordinati da Giulia Pucciarelli e inoltre anche l'esperienza di Michele Gentile che insomma questo libraio di Polla comunque ha portato un'esperienza particolare che insomma non ha portato solatteggiano ma a livello nazionale quindi siamo insomma molto soddisfatti e Rocco Cimino l'altro organizzatore che ringrazio per avermi insomma aiutato a organizzare questo convegno c'è stata molta sinergia speriamo in futuro di organizzare qualche altro convegno di sempre insomma su queste tematiche scientifiche ambientali dato insomma anche l'interesse che abbiamo notato da parte del pubblico dopo il successo di alla tavola della principessa Costanza Winter Edition la Proloco di Teggiano è già a lavoro per l'edizione 2020 della manifestazione medievale estiva intanto arrivano i ringraziamenti da parte del presidente della Proloco Biagio Matera Dopo il positivo riscontro ottenuto dalla inedita manifestazione alla tavola della principessa Costanza Winter Edition la Proloco Teggiano è pronta a mettersi a lavoro in vista dell'appuntamento clou dell'estate salernitana la versione invernale è stato un successo oltre ogni più rosa aspettativa nonostante il freddo è riuscita ad attrarre nel centro storico tantissimi visitatori anche a dicembre dimostrando come sia possibile attraverso una mirata programmazione la destagionalizzazione dell'offerta turistica anche nelle aree interne come il Vallo di Diano merito in questo caso delle sinergie messe in campo dalla Proloco con il comune di Teggiano e la regione Campania alla tavola della principessa Costanza Winter Edition è riuscita a portare nella città medievale mercatini animazione concerti oltre a riproporre il suggestivo percorso in versione natalizia con il corteo storico partito dal castello Macchiarole e guidato da Antonello Sanseverino e dalla sua sposa Costanza da Montefeltro scesi tra i sudditi per rendere omaggio alla natività a fare da cornice alla Kermesse le stupende luminarie e le meravigliose statue giganti del presepe dell'abbazia di Montevergine distribuite lungo tutta piazza San Cono ringrazio chi ha partecipato alla nostra iniziativa afferma soddisfatto il presidente della Proloco Biagio Matera anche nelle giornate caratterizzate da verse condizioni meteorologiche garantendo un successo che è andato addirittura al di là delle aspettative ringrazio il CDA della Proloco come pure i soci un grazie va a chi in questa circostanza non ha potuto collaborare con la stessa passione e lo stesso impegno profuso in altre occasioni ringrazio il sindaco Michele Di Candi e l'amministrazione comunale la mia gratitudine va anche conclude il presidente al Ministero per i beni culturali alla regione Campania a Monsignor Antonio De Luca al parroco Don Giuseppe Puppo a Gisella Macchiaroli e ai volontari del servizio civile per la Proloco di Teggiano intanto è ora di mettere in moto i preparativi per la tavola della Principessa Costanza 2020 una spettacolare macchina del tempo che nel prossimo mese di agosto riporterà indietro di oltre 500 anni le lancette degli orologi nella città d'arte del Vallo di Viano Andiamo ad Atena Lucana Scalo dove tornano gli appuntamenti con gli spettacoli del Gran Teatro Paladian Flex domenica 12 gennaio il concerto di Peppe Barra concluse le festività natalizie in cui il Gran Teatro Paladian Flex si è trasformato grazie a Tappeto Volante nel villaggio di Babbo Natale per il divertimento di grandi e piccini tornano ora gli importanti spettacoli di altissimo valore artistico-culturale che stanno creando grazie proprio al lavoro di Domenico Corrado e del suo Tappeto Volante occasione per i valdianesi di poter assistere agli spettacoli portati in scena da artisti di caratura nazionale ed internazionale direttamente sul territorio senza dover percorrere lunghi tragitti e con l'obiettivo di fare proprio del Vallo di Diano un luogo di arte cultura e spettacolo grazie anche alla presenza di una struttura imponente come il Paladian Flex voluta e realizzata dalla famiglia di Mieri per metterla al servizio del territorio su cui opera e lavora con la loro impresa in questo contesto ad Atena Lucana è tutto pronto per accogliere un nuovo grande ed affermato artista amato dal grande pubblico domenica 12 gennaio sarà Peppe Barra a riaprire le porte del Gran Teatro Paladian Flex con gli appuntamenti musicali dopo Flavio Insina con il suo spettacolo La Macchina della Felicità e Arturo Brachetti che è incantato il pubblico con il suo spettacolo solo riprende la ricca stagione teatrale con Peppe Barra e la sua musica il concerto prenderà il via alle ore 18 e 30 i biglietti possono essere acquistati presso la biglietteria del Paladian Flex presso tutte le filiali della banca Montepruno che sostiene l'iniziativa oppure sulle piattaforme GoTo e TicketOne Ed era questo l'ultimo servizio di oggi io vi ringrazio per averci seguito vi auguro un buon proseguimento di giornata Grazie a tutti Grazie a tutti